Eccoci qua, video brevissimo anche perché sto in macchina, sto andando a festeggiare Halloween giustamente il Genoa ha provato a mettere paura quindi al Milan che però devo dire che è già la seconda volta che succede prima con la Samp e poi con lo stesso Genoa, nei momenti di difficoltà questo nuovo Milan riesce a compattarsi e a trovare poi la chiave di volta giusta per raddrizzare la situazione non era stato sfortunato con il pareggio del Genoa da 2 gol rocambolesco di Romagnoli è stato poi lui stesso a porre rimedio a questa deviazione sfortunata Suso si dimostra sempre il giocatore con maggior tasso tecnico e intelligenza tattica e che dire niente, io avevo delle perplessità su Gattuso però poi è chiaro che nel momento in cui la squadra si rimette in careggiata sarà sicuramente merito anche dell'allenatore continuo a dire, secondo me che il Milan per fare il salto di qualità ha bisogno di un altro tipo di allenatore di un altro peso specifico, un po' il discorso che ha fatto anche il Napoli con Ancelotti il Milan ha bisogno di un allenatore di fascia A per fare quel salto di qualità però voglio dire, alla fine i conti si fanno alla fine Gattuso è una brava persona, onesta, a me personalmente sta simpatica, uno schietto se continua, diciamo così, buon per lui un saluto e sempre ricordatevi ragazzi, iscrivetevi al canale, campanellina altrimenti il feed non parte e poi ogni settimana calciopaccio adesso andatevi a divertire, Halloween, buon Halloween a tutti e domani buona festività dei Santi dai